ciao amici ben ritrovati per una piccola presentazione di un nuovo che penso che magari molti di voi conosceranno insomma sto parlando di Zen Beats è un programma della Roland per cui la Roland è una leader mondiale per quanto riguarda strumenti musicali e per cui non ha bisogno tanto di di essere diciamo nel senso che praticamente qui ci troviamo un top e il programma quello che vi sto presentando praticamente non vale solo per android e ios ma ma vale anche per windows mac chi ne ha più nemita praticamente diciamo che qui ci troviamo di fronte a un programma per una creazione veramente dipende sempre dalla nostra capacità insomma professionale insomma e che dire di di Roland Zen Beats è un programma completo a 360 che praticamente ti permette di fare musica veramente da sbizzarrirsi all'infinito e con una qualità superba e qui ci si può sbizzarire sia per quanto riguarda un discorso di arricchire i video nei vari social che ne ha più nemita ma anche di lavorare diciamo discograficamente Zen Beats è un programma che non manca di nulla ha di tutto di più praticamente crea una musica senza sforzo ma allo stesso tempo micidiale e che dire qui c'è di tutto trovi batteria elettronica, trovi sintetizzatore, trovi campionatore e chi ne ha più nemita insomma con questa applicazione insomma praticamente uno sia lavorando su un discorso sia di ios android o addirittura poi pagando ci sono dei abbonamenti in qualcosa insomma per cui si acquisiscono suoni e chi ne ha più nemita praticamente si può utilizzarla sia sui smartphone tablet ma anche addirittura sui pc e qui non manca nulla di tutto come come si può vedere ottiene tutte le funzionalità gli strumenti gli effetti paghetti negozi su tutte le piattaforme dispositivi include 10.000 più preset loop e suoni 7 gigabyte sintetizzatore z1 completo con 90 mx integrato sintetizzatore modulare sample verse completo ed editor capacità illimitate di messaggio esportazione di tutto e di più viene aggiornata e praticamente non manca di nulla e tutto di più ci troviamo di fronte a un'applicazione a portata di mano ma che si può utilizzare anche sui pc e praticamente professionale al massimo con oltre 100.000 dollhounds praticamente praticamente roland ti permette di fare e acquisire musica a 360 gradi e di poterla utilizzare come dicevo prima sia sui social ma anche discograficamente e che dire sentiamo un po' una demo non manca di nulla pacchetti batterie elettroniche sint sampler e chi ne ha più ne metà un prodotto eccezionale che merita ma diciamo magari non per tutti per chi vuole diciamo il bizzarismo in una maniera veloce di sedo ma per gli amanti della musica chi ci sa un po' fare o vuole cimentarsi e non vuole spendere tanti soldi per quanto riguarda strumenti adwords strumenti insomma gli stessi roland sintetizzatori che costano parecchio insomma si può utilizzare questa e fare di tutto di più con questo spero di esservi stato utile e vi ringrazio della vostra attenzione spero mettiate un mi piace e vi iscrivete al mio canale e vi ringrazio e vi auguro buona giornata e buon weekend alla prossima ciao a tutti